Unione Popolare e Rifondazione Comunista lanciano anche in Abruzzo la raccolta di firme per proporre una legge di iniziativa popolare per introdurre un salario minimo di almeno 10 euro l'ora. L'iniziativa è stata presentata stamani alla stampa dal segretario nazionale di Rifondazione Comunista Maurizio Acerbo insieme a Viola Arcuri e Corrado Di Sante. In poco tempo abbiamo raccolto centinaia di migliaia di firme e ne raccoglieremo molte altre ancora per aumentare il sostegno politico a questa iniziativa di civiltà. Aggiunto ancora Maurizio Acerbo. Noi sono due mesi che stiamo raccogliendo le firme e invitiamo tutti a firmare presso i nostri banchetti e nei comuni per una legge di iniziativa popolare e senza costituzione, una legge che quindi arriverà in Parlamento, non una semplice petizione online. Noi proponiamo un salario minimo di 10 euro perché quando fu proposto dalla Ministra con il governo Conte era di 9. Sono passati anni con un'inflazione altissima, almeno 10. In più facciamo presente una cosa che chiediamo con la legge che il salario minimo sia agganciato all'inflazione perché abbiamo un'inflazione altissima e non possiamo correre il rischio degli Stati Uniti che hanno per legge il salario minimo, poi il governo non l'aumenta mai e alla fine è diventato inservibile, non serve a niente. Quindi deve avere un meccanismo per cui ogni anno viene aggiornato in base alla crescita e al costo della vita. La nostra proposta, ha concluso Maurizio Cerbo, da un lato mira ad indicizzare annualmente il salario e l'inflazione reintroducendo una sorta di scala mobile la cui abolizione negli anni 80 ha prodotto tanti danni agli stipendi. Dall'altro lato spinge i lavoratori ad impegnarsi direttamente tramite la raccolta delle firme per migliorare le proprie condizioni di vita reali senza attendere che altri introducano questa innovazione. E poi proponiamo che a pagare siano i datori di lavoro, tranne in casi specifici come quelli dell'assistenza familiare per la famiglia a medio e basso reddito in cui ci può essere un supporto dello Stato sociale. Ma se io ho un'impresa, devo pagare io i dipendenti, non lo Stato, non si capisce perché venga formulata dalle opposizioni parlamentari questa cosa. E proponiamo sanzioni per chi viola questa legge. E quindi dico tra l'emissione...